La politica ha la capacità di anticipare il progresso, di saperlo governare oppure resta indietro. Il compito delle istituzioni è proprio questo. Oggi racconteremo la Toscana del 2050 attraverso gli occhi delle bimbe e dei bimbi della nostra regione, attraverso gli occhi dell'intelligenza artificiale, attraverso gli occhi e le parole di Giovannini che ci racconterà da esperto del settore come la Toscana si sta muovendo. Il compito nostro è quello di continuare questo lavoro nei prossimi mesi, di farlo tutti insieme, con l'obiettivo di rendere a fine legislatura disponibile alle cittadine e ai cittadini della Toscana un indirizzo della strada da perseguire, perché la politica ha il compito sempre di anticipare il progresso. Delineare la Toscana del futuro per indirizzare le scelte politiche Toscana, 2050 a Firenze l'appuntamento dell'iniziativa lanciata dal Consiglio regionale Città, Cultura, Salute e Lavoro, i temi affrontati grazie anche al lavoro svolto dal Comitato Scientifico. Il punto è di saper intuire quali sono i megatrend e uno è quello del cambiamento climatico, ma c'è un altro importantissimo di cui ancora si parla troppo poco che è quello del crollo demografico, che peraltro riguarda tutti i paesi, anche l'India oramai, e quindi come gestire un mondo che non si sa nemmeno quanto sarà popolato. Sicuramente quella della sostenibilità dei cambiamenti climatici è una sfida epocale, fra l'altro sapete, noi ci stiamo già lavorando, abbiamo creato un centro di competenza che si chiama proprio 5.0, è Industria 5.0, che vuol dire un'industria che non è un'economia se volete, che non è solo basata su rivoluzioni tecnologiche, ma sull'attenzione alla persona. Cioè, Human Center, il secondo Planet Center, è la risposta. Cioè, la vera sfida è come sviluppare tecnologie e conoscenze in generale, perché non dimentichiamo dietro le tecnologie c'è la scienza, c'è la conoscenza scientifica a tutto campo, che consente di affrontare il futuro anche quello imprevedibile. Proprio le previsioni demografiche indicano un cambio radicale nella società toscana. Nel 2050 avremo più o meno 200.000 abitanti in meno, l'età media delle persone si allungherà molto, avremo un'età media intorno ai 50-51 anni. Soprattutto la speranza di vita si avvicinerà ai 90 anni. Pensate che nel dopoguerra era 65 anni. Certo, questo ha due facce, la faccia positiva che ho detto ora, si vive più a lungo e quindi è una conquista. La faccia negativa è che ci sono molti anziani rispetto ai giovani. Nel 51, quindi nel dopoguerra, 10 giovani, 4-5 anziani. Un secolo dopo, 10 giovani e 31 anziani. Il lavoro andrà avanti per tutta la legislatura con l'idea futura di un riequilibrio tra uomo, tecnologia e natura. Questo è un lavoro importante per verificare quello che può essere una toscana che si rinnova, che però mantiene le proprie tradizioni, capire quello che sarà il mix fra tecnologia e innovazione, che ruolo giocherà l'uomo e il grande estro che comunque i toscani hanno avuto nella storia, capire come la grande eterogeneità, il grande dinamismo, la grande capacità di innovare che hanno avuto i nostri antenati sia sulle arti, sia sull'agricoltura, sia ovviamente su tutti gli elementi di ingegno che hanno fatto grande la Toscana e l'hanno differenziata nel mondo, come poter rinnovare questa grande capacità dentro un contesto che sta cambiando e che ruolo giocherà anche l'uomo dentro queste relazioni. Quindi dobbiamo anche disegnare una società dove l'uomo sia protagonista, perché lo è sempre stato, fin dall'epoca rinascimentale, fin da tutto quello che ha prodotto, grande innovazione, quindi è un mix di pensiero che proviamo a fare, privo diciamo di una immediatezza e questo è forse il compito più bello che si è dato all'ufficio di presidenza in questi due anni e mezzo, provare a pensare indipendentemente dal presente. Preoccupano, dice Antonella Manzi, già presidente di Confindustria Toscana, le fratture, insieme alla società toscana sociale, generazionale, tecnologica di sviluppo. Sono le tante diversità, le tante fratture che noi cogliamo su un piano generazionale, su un piano di sviluppo, di connessione, su un piano di competitività. Quindi credo che l'impegno della comunità tutta, in tutti i suoi attori, debba essere proprio quello di colmare queste distanze e consentire a ognuno di noi di partire quantomeno dallo stesso punto di partenza. Mi occupo di educazione e quindi credo che a partire dalla scuola, passando per università, ma passando anche per persone di tutte le età, sia importantissimo condividere una cultura che guardi al digitale come un'opportunità, che guardi all'innovazione, guardi alle nuove tecnologie e che sappia sfruttarle al meglio. Per fare questo abbiamo bisogno di condividere soprattutto una cultura da questo punto di vista, perché se non siamo preparati a comprendere questi aspetti, poi non c'è competenza che tenga. Quindi cultura e poi le competenze di conseguenza. Il Consiglio regionale della Toscana, giunta a metà dell'undicesima legislatura, come previsto dal regolamento interno, rinnova con voto dell'Aula l'Ufficio di Presidenza, che vede le riconferme di Antonio Mazzea con la carica di Presidente, Stefano Scaramelli e Marco Casucci come suoi vice, Diego Petrucci e Federica Fratoni come consiglieri segretari. E in aggiunta si sono eletti ex novo due consiglieri, Francesco Gazzetti e Marco Stella, che ricopriranno le cariche di questori. Sono emozionato per la mia riconferma di Chiara Mazzeo, che rilancia l'obiettivo di proiettare la regione in un futuro diverso, ma migliore da come è stata trovata qualche anno fa. Quando l'Assemblea legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi, mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo, con serietà, con impegno, con rigore, con passione, insieme a tutti gli altri colleghi dell'Ufficio di Presidenza che ringrazio. Noi, davanti a noi, abbiamo due anni e mezzo ancora molto complicati. Usciamo dalla terribile pandemia, i primi mesi difficili, portati avanti da tutti con grande serietà. Lo scoppio della guerra, con tutto quello che ha significato. La Toscana è sempre stata una terra d'accoglienza, una terra aperta, inclusiva e vuole continuare ad esserlo. Io mi sono preso un compito, che è quello di cercare di portare nei prossimi due anni questa Assemblea legislativa a essere sempre più la casa delle Toscane e dei Toscani. Un luogo aperto in cui la maggioranza possa perseguire la sua giusta volontà di portare a casa le leggi che ritiene più giuste per offrire servizi migliori ai cittadini e ai cittadini toscani e la minoranza abbia il suo spazio di critica e anche di opposizione dura, aspra quando serve. Io sarò garante di questo, voglio essere come ho fatto fino ad oggi e spero di poter fare meglio il Presidente di tutte le Toscane e di tutti i Toscani. Soddisfazione anche per i Vicepresidenti Scaramelli e Casucci che hanno ricevuto rispettivamente 21 e 13 voti. Si consolida e si rafforza il Governo Gianni, nel contempo la mia figura di carattere istituzionale, a garanzia di tutto il Consiglio regionale, di tutti i cittadini toscani, quindi la capacità di incidere nei processi dell'Aula, nella Presidenza dell'Aula, in tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio, con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo, Presidente, anche lui riconfermato, maggioranza che si consolida con questo voto, che compatta quindi questa nostra coalizione. Far parte dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana è un grande onore, ma anche ci spinge a dare il meglio di noi stessi e a migliorarci giorno per giorno. Siamo al servizio dei Toscani e lo stiamo dirigendo la macchina del Consiglio regionale, facendo gioco di squadra quando va fatto e al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo affinché tutto potesse procedere nel modo migliore e con la massima trasparenza. È una grande responsabilità, ma anche una grande gioia. Io sono onorato di far parte dell'ufficio di Presidenza ormai dal dicembre del 2017, sono diversi anni e ho cercato in questo periodo di fare l'interesse di tutti i Toscani, cosa dovuta e al tempo stesso quanto mai gratificante. Nel segno della continuità anche l'elezione dei due consiglieri segretari Frattoni e Petrucci che ricevono dall'aula rispettivamente 23 e 14 voti. Un onore grandissimo rappresentare il Consiglio regionale della Toscana nell'organo di governo. Lo facciamo in maniera, penso, il più istituzionale possibile perché non è quello il luogo della contesa politica. Lagone politico ci deve essere, anche duro, anche rigido, sicuramente in certi momenti radicale, ma questo deve essere fatto nelle commissioni dove si discutono le proposte di legge e le linee di governo della regione toscana. Sicuramente nell'aula del Consiglio regionale l'ufficio di Presidenza è un altro ambito nel quale dobbiamo invece decidere le regole che valgono per tutti e in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento il più possibile super partes anche riuscendo a spogliarsi delle proprie appartenenze politiche e avendo appunto come obiettivo comune l'interesse dei cittadini toscani. Credo che continueremo a lavorare anche con l'innesto dei due nuovi questori in uno spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le sedute dell'ufficio di Presidenza orientando la nostra azione alla valorizzazione del ruolo che l'istituzione Consiglio regionale deve avere per tutti i cittadini toscani cercando di rappresentarle al meglio e soprattutto di favorire anche iniziative che promuovano i principi statutari del nostro ente quindi grande attenzione ai valori dei diritti all'economia circolare alla sostenibilità ai temi del momento porteremo avanti questo lavoro avviato sulla immagine di una Toscana 2050 e quindi disegnando anche traiettorie nuove di sviluppo e lo faremo ovviamente in un'ottica come dicevo di collaborazione che va oltre i colori politici. La composizione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si è completata poi con l'elezione dei due consiglieri con funzione di questore Cazzetti e Stella che ricevono rispettivamente 19 e 13 voti. L'arrivo di questa nuova figura del questore sicuramente ha una volontà precisa quella di potenziare e moltiplicare anche le possibilità di copertura del territorio. Il tema dell'Europa è un tema di sempre maggiore e crescente attenzione ritengo dunque che questo sia sicuramente un campo nel quale potenziare il lavoro e poi c'è sicuramente una grande attenzione che deve essere dedicata ad esempio ai giovani e poi c'è un impegno assolutamente significativo che è quello di poter valorizzare il protagonismo e del coinvolgimento delle colleghe e dei colleghi consiglieri. Noi vogliamo riavvicinarsi ai cittadini l'ampliamento dell'ufficio di Presidenza serve anche a questo io porterò le istanze di tutti dentro l'ufficio di Presidenza porterò la mia esperienza professionale io continuo ancora a lavorare pur facendo il consiglio regionale al rapporto con le imprese penso all'internazionalizzazione penso per esempio alle risorse che dobbiamo mettere per i poliferistici e per la possibilità per le nostre imprese di avere stand credo che all'interno dell'ufficio di Presidenza porterò anche l'esperienza della scorsa legislatura sempre con la stessa voglia con lo stesso entusiasmo con un'attenzione particolare a famiglia di imprese. Il presidente Eugenio Gianni rispondendo in aula ad un'interrogazione presentata dalla consigliera regionale Irene Garletti in tema di Cheo afferma che la regione toscana seguendo tutti gli iter di legge previsti ha la volontà di sostituirsi agli antipreposti per le bonifiche dei siti inquinati e per questo si sono stanziati 5 milioni di euro nel bilancio di previsione e altri 8 ne saranno stanziati con la prossima variazione di bilancio. Vogliamo che ciò che è urgente e necessario per le bonifiche venga fatto oltre ai 5 milioni che avevamo messo nel nostro bilancio altri 8 noi li metteremo proprio nella prossima variazione di bilancio perché riteniamo che comunque nell'interesse dei cittadini la regione che si costituirà a parte civile nel procedimento che è in corso da un punto di vista giudiziario può sostituirsi per anticipare quello che è l'effetto di bonifiche sul territorio. Torselle e Gazzetti non soddisfatti delle azioni portate avanti dalla regione a presidenza Gianni. Se la regione toscana vuole un commissario da parte del governo anziché dire che noi ci sostituiamo con i soldi continuino pure a spendere tutti i soldi che hanno per risanare il buco della sanità come stanno facendo fino ad oggi e semplicemente si rivolgono al governo ammettano la loro incapacità di effettuare le bonifiche e chiedono al ministro competente di avere un commissario che svolga questo servizio. La situazione è surreale che la massima assemblea legislativa della Toscana sta discutendo di una variazione di bilancio e il governatore anziché stare in aula a partecipare al dibattito va a annunciare alla stampa a voi ai giornalisti la prossima variazione di bilancio e questo ci sembra profondamente rispettoso. Soltanto adesso con una variazione di bilancio il presidente ci annuncia a bontà sua che verranno fatte anche delle bonifiche per sostituirsi a quelli che sono i responsabili che certo non è un atto voluto ma appunto grazie a lui verrà fatto secondo tutti i criteri di legge. Peccato che questa azione che lui ritiene è molto efficace e quantomeno tardiva soprattutto manca di un monitoraggio attento di quelli che sono e soprattutto nella comunicazione di tutti quelli che sono i siti contaminati e nel 2023 migliaia di persone ad oggi sentono dire che con una variazione di bilancio la regione farà il possibile seguendo la legge. La regione doveva fare il suo lavoro invece di essere compiacente e spesso troppo arrendevole nei confronti di molti imprenditori che non hanno fatto il loro dovere danneggiando così non soltanto l'ambiente e la salute dei cittadini ma anche tutti gli imprenditori onesti che hanno sempre fatto il loro lavoro rispettando le regole allentare le maglie della rete e questo si doveva fare non provvedere a rimediare a dei danni che anche la regione ha causato a due anni di distanza e che ancora oggi non sono stati rimediati perché Green Park Crespina Lorenzana la strada statale 429 sono tutti ancora al loro posto con dei teli di copertura quando sappiamo che l'acqua permetterà al cromo esavalente di generarsi e andare nelle falde non ce ne facciamo più niente dei monitoraggi serve un'azione vera non le parole del presidente il presidente